Musica 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 Già tutto sistemato e poi passiamo già a questa scena qua Quindi in realtà Musica 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 Allora stiamo decidendo in base alle giornate di riprese come far vestire gli attori Il padre il primo giorno metterà dei pantaloni grigi e una camicia beige e democracy La madre metterà un pantalone nero con la camicia a righe tipo arbitro Musica Musica Ciao, sono Cristina di Filmiki di primo anno e io ho lavorato alla produzione insieme agli altri ragazzi di produzione abbiamo lavorato al libro e abbiamo cercato le ricette di cucina Musica 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 Dai Gianlu Va bene Gianlu 1.4.3.2 Azione Grazie per la visione!